Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ovviamente parliamo del calendario uscito, a mezzogiorno hanno fatto i sorteggi, tutto quello che bisognava fare l'abbiamo in mano e possiamo un minimo parlarne. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciando un like ovviamente dopo, un commento. Se volete trovate anche l'applicazione, il link diretto per scaricare l'applicazione di numero 10, in questo modo potrete sostenere me e il canale, io ve ne sarei grato, è un'applicazione gratuita, tra l'altro molto bella, ci stanno investendo tanti soldi per renderla un'applicazione a 360 gradi sul modulo del calcio, dategli un'opportunità. Dicevamo, torniamo a noi, questo video onestamente non è una frase fatta, non lo volevo fare, non lo volevo fare perché credo che oggi come oggi un commento sul calendario non possa andare al di là della semplice cronaca, però l'avete chiesto anche nel gruppo Telegram e quant'altro, quindi fatemi anche spiegare un po' la mia posizione. Partiamo dal fatto che io sono profondamente contrario al calendario sfalsato, cioè con il girone di ritorno che non rispecchia il girone d'andata. Sarà un mio limite però io credo che in questo modo una squadra possa essere doppiamente penalizzata perché uno può avere un brutto girone d'andata però ha il tempo di organizzarsi per gestire il girone di ritorno che sarà uguale, invece in questo caso uno può avere un brutto girone d'andata e un pessimo girone di ritorno. E quindi già lì l'abbiamo visto con i video per esempio che facevamo della giornata, ci siamo fermati perché non si poteva più dire niente, cioè a un certo punto dovevi dire El Empoli ha vinto e a tre punti da quell'altra che però fra due calende e mezzaluna crescente giocherà contro quell'altra che deve recuperare il sesto delle ID di marcia, diventava una roba un po' inutile. Nello stesso tempo in mezzo a tutto questo casotto c'è ovviamente la pausa mondiale che inciderà tantissimo, io non so come sfrutteremo questi due mesi di pausa, probabilmente convertirò il canale YouTube in quel momento in un canale di briscole o di solitari perché non saprei proprio che cosa fare, ci penseremo al momento e quindi secondo me non è più il momento, non è più il tempo per fare grandi riflessioni sulla cosa, perché mi smonto alcune cose che ho letto anche nel gruppo Telegram e che mi avete scritto. La prima dice, caspita, la prima osservazione che uno può fare è dire incontriamo le prime sei squadre su sette di quelle davanti a noi prima della pausa invernale, la prima della pausa mondiale. È un tema, però io francamente che cosa voglio dire non lo so, perché a parte il fatto che dopo la pausa mondiale ci sono quattro partite da finito il girone, quindi la statistica che le beccavamo prima era abbastanza data la nostra. Io non so se una squadra come la nostra che avrà una discreta partecipazione al mondiale, ma nemmeno fortissima, sarà avvantaggiata o svantaggiata da questo elemento. Non ne ho la minima idea e vi dirò, non so neanche come si comporteranno i giocatori, perché una volta a maggio, a fine aprile maggio erano i più anziani se lo ricorderanno, erano i mesi in cui i giocatori levavano la gamba per non perdere il mondiale o l'europeo di turno. Io non so se potrebbe capitare la stessa cosa, sicuramente perdere il mondiale per molti è quasi un dramma, però non ho idea di come un giocatore vivrà questa nuova situazione. Quindi dirvi è meglio affrontarli prima o meglio affrontarli dopo, secondo me, non poggia su delle, realmente non poggia su delle basi di ragionamento valide. Allo stesso modo dirvi che dopo il mondiale c'è abbiamo lo Spezia, il Bologna, la Salernitana, la Juventus, ma francamente non so che cosa cambia. Il secondo tema coletto è che affrontiamo nel giro dell'andata tante big in casa, perché affrontiamo nel Milan, nel Lazio, nel Napoli, l'Inter, anche lì. Cosa significa? Non lo so. Io sono uno di quelli che non crede al fattore campo. Io credo che un pallone messo fermo in mezzo al campo, in uno stadio pieno di tifosi, il pallone non si muove. Quindi alla fine della fiera non sono così convinto che giocare in casa o in trasferta, a meno che le trasferte non siano dall'altra parte del mondo, incida più di tanto. Però è negabile che per esempio per noi il fattore campo qualcosa ha significato. Non chiedetemi che cosa, non chiedetemi come. È una discussione che portiamo avanti da un paio d'anni, non ne siamo mai arrivati a una, non ce ne arriveremo anche questa volta. Quindi non so dirvi se è una cosa che dobbiamo leggere positivamente o se è una cosa che dobbiamo leggere negativamente. Sicuramente è un inizio. In trasferta con la Samp, poi il Milan in casa, poi il Verona in trasferta, poi il Torino in casa, è un inizio pesante, un inizio importante in cui, da un punto di vista psicologico, puoi anche, se non ti gira benissimo, avere qualche freno. Allo stesso modo è un inizio che se affronti bene è una bella iniezione di fiducia. Quindi, come vedete, è uno di quei temi che piace, perché si può dire il tutto al contrario di tutto. Ed è per questo che è un tema su cui io generalmente non mi dilungo mai più di tanto, perché davvero, cosa vuol dire? Tra l'altro, quest'anno, con, mio parere personale, con la Cremonese, il Monza e il Lecce, di squadra Cuscinetto, non ce ne sono neanche tante. Quindi, non so, dirvi se un settembre con Monza, Cremonese e Roma lo possiamo considerare una pacchia. Una cosa è certa, una cosa è certa, per le squadre che fanno le coppe quest'anno è durissima, perché grandi ritmi, grandi intensità, tante partite da giocare, ma l'elemento che secondo me è l'unico forse interessante è che appunto, essendoci tante partite, e avendo anche in proiezione del mondiale, potrebbe essere che qualche top club veramente giochi col freno a mano tirato. Anche perché è di soldi per costruire rose chilometri che non ce ne sono, quindi lì sì che potrebbe essere un elemento, così come ovviamente il mondiale di suo avrà un impatto, perché noi avremo gente che ha giocato per non due mesi, ma un mese abbondante, e gente che non ha giocato. Quindi, se devo dirvi una cosa, io sono curioso di vedere come funziona il ritorno. Sono curioso di vedere le squadre che sono state più ferme, se effettivamente hanno un gap di vantaggio o meno rispetto agli avversari. Non ne sono così convinto, però. Sul resto, da fiero. Non so che considerazioni fare. Se ve ne vengono in mente, io sono qua. Non sono curioso di leggerle, magari illuminatemi anche sulle cose che mi stanno sfuggendo. Francamente il calendario è una roba che oggi come oggi non mi suggerisce grandi analisi e credo che veramente si possa, ognuno possa raccontarla un po' come vuole e probabilmente ci azzecca e sbaglia allo stesso tempo. Fatemi sapere un po' le vostre impressioni. Vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!